Questa è una partita molto importante per noi ed è una di quelle partite che si ha tanta voglia di giocare per questo sicuramente daremo il meglio per ottenere il miglior risultato qui a casa nostra. Questo è un anno molto importante per me, è un anno di crescita in cui dovrò imparare tanto e sicuramente lo farò perché il gruppo è fatto di giocatrici di esperienza che hanno sempre giocato a questi livelli ed io sto imparando e quindi spero poi di essere pronta per le prossime annate magari con questa maglia che sarebbe il mio sogno. Sono qui da tanti anni e quindi in questa partita troveremo dei volti conosciuti che hanno già giocato con questa maglia e per questo sarà una partita ancora più emotiva e tutti vorranno ovviamente dare il massimo per dimostrare e noi altrettanto dovremo dimostrare che siamo qui per lottare e lotteremo fino alla fine, fino alla fine del campionato che è ancora molto lungo.